io voglio provare questo non so effettivamente quanto sia impegnativo c'è tanto da leggere ragazzi boh proviamolo cazzo forse dovevo provarlo prima non so cosa aspettarmi lo proviamo ciao bollipo dove sto? sto qua? vabbè adesso vediamo allora stai calmo raga che paura i suoni italiano formato data giorno, mese e anno perfetto modalità facile nudità così è attivo o non è attivo? così è attivo o non è attivo? chi lo sa schermo intero così è attivo chiaro vedo la gente nuda? ma quanto nuda? si può vedere la gente nuda in questo gioco? in live? credo di sia un gioco no? vabbè per sicurato togliamolo allora storia cosa faccio? storia senza fine ah ok allora teniamolo attivo grazie grazie per me l'ho detto Leo storia scegli il giorno da cui continuare o iniziare una nuova partita giorno 1 congratulazioni grazie la lotteria del lavoro di ottobre è terminata è stato estratto il tuo nome fai rapporto al ministero dell'accoglienza presso il presidio di frontiera Grestin per il collocamento immediato alla tua famiglia verrà assegnato un appartamento di classe 8 a Grestin Est Grestin presidio aperto dopo 6 anni il ministero dell'accoglienza saprà proteggerci? famiglie riunite ok raga qui devo mettermi gli occhiali se no visto che devo leggere se no mi si sminchiano gli occhi non ci capisco niente abbiamo gli occhiali let's go 23 novembre 1982 oddio ma com'è scritto male questo font ok tutta sta gente aspetta Arstotzka ministero dell'accoglienza bollettino ufficiale ispettore congratulazione per l'assunzione presso il presidio di frontiera Grestin timbrare il visto d'entrata sui passaporti e restituire i documenti ai richiedenti l'antate è limitata ai soli cittadini ad Arstotzka rifiutare tutti gli stranieri ok timbrare il visto d'entrata ridare i documenti e possono entrare solo i cittadini di Arstotzka che paura salve documenti prego finalmente ritorno a casa vediamo visto d'entrata Micheli Nadia ok da 51 femmina bla 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 Arstotzka con cosa timbro? ah si questo mi dite ok questo lo tengo sotto controllo perfetto questo cos'è? ok dov'è il timbro ragazzi? come si fa timbro? ah ok approva ah così puoi entrare prego vada vada prossimo chi è lei? documenti prego presidio è più piccolo di quanto credevo ok vista d'entrata allora impor take carry arby noi non lo possiamo far passare non è un cittadino d'Arstotzka a ridirci è stato bello vederla addio mi dispiace prossimo salve buongiorno documenti prego 8 ore che aspetto in coda è schifosa spero che vale la pena e mi sa che invece Sobolev Alexander non ne vale assolutamente la pena 8 ore sprecate no l'ho fatto entrare posso ritimbrarlo un'altra volta scusi c'è un po' di confusione a ridirci incredibile va all'inferno ma c'è pezzo di fango io faccio solo il mio lavoro prossimo prego muoversi grazie vediamo Mari posso dire che sei bella no scherzo era una bugia non può entrare a ridirci buona giornata next prossimo prego sei vicini signore che bei baffi che ma è venuto qui a disturbarmi e basta mi se ne vada prossimo si sbrighi cosa vuole matizza cittadino cittadino cosa ho sbagliato moglie figlio socia razio ok risparmi affitto riscaldamento cibo usa le caselle più no era giusto adesso non può ho perso cosa 24 novembre ok devo stare più attenta allora mi sa quindi è ripartito da zero leggiamo vuole dire dove c'è dalla data odierna permesso l'accesso agli stranieri con passaporto in corso di validità attenzione possono entrare tutti se hanno il passaporto valido la guardiola è ora dotata dell'attrezzatura di ispezione verifica no non era non ho perso era giusto possiamo ispezionare verificare attentamente eventuali incongruenze nei passaporti rifiutare i richiedenti con dati incongrui continua la prossima pagina modalità di ispezione accendere la modalità di ispezione con il pulsante rosso sulla scrivania durante l'ispezione evidenziare due informazioni incongrue per ulteriori opzioni norme e regole il presente incarico disciplinato dalle norme e regole del ministero dell'accoglienza studiare attentamente il regolamento per interrogare il richiedente evidenziare due informazioni incongrue in modalità ispezione serranda bancone regolamento trascrizione bollettino data e ora ok credo di aver capito spero vediamo ho preso un ammonimento ok quindi abbiamo capito che possono entrare gli straniere bisogna fare l'ispezione se troviamo delle incongruenze si hanno però il passaporto valdo possono entrare ok buongiorno prego il primo che abbiamo qui salve signora visto di entrata allora data di nascita sesso femmina cittadino enchio scadenza del passaporto 2 agosto 83 noi siamo nel 82 perfetto signora credo che lei può effettivamente entrare prego next la base ah si giusta ma salve buongiorno allora nato nel 43 maschio cittadino glorian va bene scadenza primo novembre dell'82 ah è il passaporto scaduto signor nicolas e ora che facciamo eh data non coincide questo e questo e ora interrogazione questo documento è scaduto di che cosa parli beh effettivamente siamo al 24 di novembre scade il primo di novembre quindi ora che facciamo se ne vada non può entrare mi dispiace sarà per la prossima volta forse si rifaccia il passaporto addio prossimo che abbiamo salve signore belli gli occhiali mi piacciono molto maschio cittadino outer growth scadenza 17 febbraio dell'84 eh vabbè abbiamo ancora due anni può entrare no senza problemi non credo la foto combacia è lui la data è giusta a posto non può entrare suca prossimo muovete il culo salve signorina oh signora presto ho autobus fra poco senti non mettermi fretta ok sei molto calma scadenza giusta perfetto data di nascita 37 tia signorina l'ho chiamata c'ha 50 anni e passa bara è lei no è lei guarda lo faccio con molta calma perché mi ha detto cioè mi hai messo fretta quindi oh non ha funzionato ho sbagliato per sbagliare aspetta oh ok ah cazzo però non l'ho centrato bene aspetta cazzarola fammelo ritimbrare un'altra volta ok a posto può andare ho sbagliato prego ma si non so il timbro non funzionava bene prossimo salve ma mia cosa c'è in testa salve 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 sireni sarà si capisco coleccia aspetta un attimo mi sa che lei non può entrare dove c'erano le norme aspetta no prima dicevano che non potevano entrare quelli provenienti da coleccia è vero però non c'è scritto qua ho un dubbio ah ho sbagliato prima ok questo non c'entra nulla adesso ok bene il passaporto è valido lei signora può entrare prego si faccia avanti possono possono ok prossimo basta che non siano scaduti ok mamma mia che capelli salve allora qui abbiamo il passaporto valido a posto sembri annoiato se vuoi divertimento vieni a trovare noi va bene grazie oh nice grazie mille signora aspetti però che il mio turno è quasi finito ma la trovo vengo a trovare dopo cerchi di convincermi in qualche modo vedo che è tutto comunque funzionante valido quindi va bene pensavo fosse una tattica manipolatrice questa di invece no io resto un paio di mesi ricorda di visitare noi va bene va bene grazie lo tengo qua cos'è che è già stata suonata la sveglia prima vediamo signore lei già il passaporto devo perfetto valido ok maschio basiliproro dato è stata una nuova qui non sono abituata che cazzo succede è stato che cazzo cosa chi cosa wow clandestino le ho fottuto il passaporto giornata interrotta per attacco terroristico i progressi vengono salvati ok ho guadagnato a 5 dollari ragazzi procediamo giro di vita il presidio più guardie più sorveglianza sospettati i terroristi della collecia iniziamo sono sì sono in un confine di guerra chiaro 25 novembre che abbiamo di nuovo qua l'entrata dei non cittadini è ora regolamentata tutti gli stradieri necessitano di regolare cedolino d'entrata verificare i dati prima di timbrare il visto d'entrata sul passaporto del struttore di documento richiedente per correlare i documenti mancanti evidenziare il bancone e la voce appartenente sul regolamento ok non lo so cosa facciamo va bene proviamo vai vai iniziamo let's go si inizia mi dia il documento grazie collecia ok è attivo cioè non è scaduto perfetto non so se devo fare qualcosa aspetta cos'è questo cedolino ah deve essere devono darmi questo deve essere valido o glielo ho dato io questo aspetta fammi rileggere non c'è capito un cazzo tutti gli stranieri necessitano di regolare cedolino d'entrata beh è valido no ok mi devono dare questo quindi se non ce l'hanno non passano beh vada farlo dirci perché non può perché non può è l'attivo no no perché non può dare dice di si l'entrata dei non cittadini è ora regolamentata tutti gli stranieri hanno accesso di regolare cedolino d'entrata ce l'aveva quindi a posto prossimo sul giornale no devo reggere cosa c'è scritto qua però io credo salve buongiorno ma lei non mi ma io come faccio a capire se è straniera o no cittadina glorian io non mi ricordo dove ci troviamo questa dobbiamo farla passare sì o no cioè è tutto valido in teoria sì mi sa che devo essere più veloce manca il cedolino giusto me lo dovrebbe dare no non deve passare questa mi sa che dobbiamo essere più veloci perché così più persone passano o non passano più soldi facciamo mi sa muoviti grazie salve salve posso dare a te ma che cazzo ma basta validità 25 a novembre perfetto questo funziona questo è attivo vada vado a dirci dai 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 prossimo avventata non è garantita sbrighi salve 83 scadenza ok il cedolino valido 25 11 femmina ok può entrare mi sa aspetta però la foto è diversa la foto è diversa non può entrare ho sbagliato a dirci se la vada prossimo mi volevo ingannare dovevo indagarla è vero e niente mamma mia stai zitto tu ok lui è lui in teoria non vedo bene gli occhi cosa c'è scritto qua valido maschio cittadino ok lui può passare secondo me veloce prossimo salve 9 dicembre 82 84 cazzo la foto è orribile posso dirtelo fratello veramente orribile sarà perché è brutto lui scusate sto facendo violazione procedura cosa 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 ho sbagliato data non conforme quale data no no raga prossimo ah doveva essere la data di oggi nel cedulino forse io pensavo fosse attivo per più tempo ah deve essere proprio del giorno d'oggi ok femmina ok è sempre lei ok 6683 cosa c'è scritto qui questo è perfetto vada può passare prego arredirci alla prossima cioè spero di no posso documenti dai dai muoviti si sbrighi signore documenti chiuso riaperto il richiedente non ha documenti per procedere usare ah giusto interrogazione vai interroghiamo come si fa a interrogarlo cosa devo cliccare per interrogarlo istruzioni complete a pagina aspetta pagina 2 per corre correllare documenti mancanti ridenziare il bancone alla voce ah li devo fare il documento io forse no aspetta sto richiedendo che il passaporto sarà documento di costruzione stranieri solo con cettolina ad entrata passaporto ah sono i vari tipi di passaporto anche vedi no che cazzo devo fare ha il microfono dove il microfono dove non si evidenzia raga ah ma eh ma com'è se devo tenerlo ah ok e quindi questa è la trascrizione audio ah ok è chiaro aspetta allora devo prendere i documenti documenti mancanti no non si può il bancone è vuoto non si capisce aspetta il libro è questo non è questo questo forse è quello del regolamento è questo qua questo per correllare i documenti mancanti evidenziare il bancone e la voce pertinente sul sul regolamento verificare eh qual è la voce Gesù quello con tutti gli stati confinanti questo quindi non capisco ancora indietro ciao matti ma che cazzo devo fare tutti questi capire qual è di questi non prima la voce è solo richiedente con passaporto il banco vuoto solo richiedenti con passaporto ah così interroga dov'è il tuo passaporto è così forte è così forte che passaporto non serve giusto passaporto richiesto ok ok capito ritorno ancora mamma che fatica non si capiva grazie ok vediamo tuo figlio ha bisogno di medicine moglie fame figlio male fame socia da fame zio fame ok non so se ho cliccato rimandato all'ampliamento del presidio boom del mercato nero il governo troppe immigrazioni facili metto spettacolo ok non è il lavoro che fa per me comunque questo non posso dirlo prossimo cioè non è vero aspetta devo leggere il regolamento la regolamentazione sulle credenziali d'entrata è ora più stringente i cittadini dovranno esibire una carta di identità gli stranieri dovranno ottenere ed esibire un permesso d'entrata il cedolino d'entrata non è più sufficiente quindi carta di identità per i cittadini d'Arstotzka invece per gli stranieri serve il permesso d'entrata e il cedolino pure il regolamento contiene un nuovo capitolo descrittivo sulla documentazione a familiarizzarsi con tutte le informazioni rifiutare tutti i richiedenti con documenti incongrui constatare la trascrizione audio per correlare le dichiarazioni di richiedenti ok chiaro credo allora sono richiedenti con passaporto solo documenti in corso di validità cittadini solo con carte di identità stranieri solo con permesso d'entrata ah ok vedi queste sono le norme siamo qua al confine è chiaro bolli diplomatici vari distretti ma quante informazioni sono nuova qui prego a prossimo notte impernator scopo del viaggio transito verso l'altro paese durata di soggiorno rimango solo 14 giorni lei viene da qua 83 valido femmina è lei permesso d'entrata il presente d'accesso condizionato allo stato sovrano d'artosca nicola kolinska eee no è un altro nome questo è outer grouse investigazione subito com'è aspetta il passaporte il numero però è quello dice 14 giorni il nome è giusto sta sotto ah già già è vero vero questo è il cittadino di dove sta sì 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 pensavo fosse il nome del cittadino ok no allora è a posto può passare prego prego prossimo stiamo lavorando insieme ragazzi grestin est 83 maschio mattias o mataias lui qua tutto con bacia ok può andare è un po' storto ma va bene è sbagliato il nome ma dio santo ma devo stare più attenta sarà il mio figlio non avrà le medicine prossimo scopo scopo del viaggio cosa io non so per visitare durata di soggiorno pochi giorni forse cedolino ma lei non mi può dare cedolino cedolino non basta se ne vada esatto che schifo ho pagato dei soldi per cedolino immagino prossimo bonjour 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 lei si chiama mi trasferisco qui ok del 40 ok 84 scade permesso d'entrata a vlad hansman beh non è lui vero scopo immigrazione durata per sempre scadenza 17 beh non è lui il nome è sbagliato ok perfetto interrogiamo vai questi nomi non coincidono ho due nomi diversi che cazzo vuol dire prove consegnare il richiedente che cosa impronte e nome alias dichiarate devono coincidere con gli archivi nome nataniel cragoon alias ok quindi devo dargli questo ah le impronte mi ha dato dobbiamo analizzarle coincidenti ok quindi a posto no è lui quindi può andare vero raga spero di sì sono rip figlio prego prego a posto prossimo grazie mille steen eva franziska sono così felice per l'apertura di confine faccio visita a mio figlio prima volta in sei anni è durata di soggiorno sei mesi sei mesi scadenza ma ah però il permesso è scaduto a nome suo è scaduto eh no è scaduto è scaduto esatto vai interrogiamo questo documento è scaduto io prego lascia passare mio figlio aspetta non può mi dispiace vedeteci tanto bello non è l'inferno prossimo next please visita un durato di soggiorno resto 8 settimane 8 settimane sono due mesi visita scadenza 25 ok 82 bingor schimiche passaporto numero sbagliato signora qui c'è un numero sbagliato mi dispiace cosa facciamo adesso eh non so niente di questa storia vabbè io io devo dirci prossimo c'è il giorno del passaporto non so il documento salve prego scopo del viaggio transito verso altro paese durata di soggiorno rimango da solo due settimane ok giusto transito ok questo è valido si chiama lords and jens ok questo non è scaduto lords and jens nome sbagliato possibile eh che cazzo tutto sbagliato oggi eh allora qui c'è una lettera sbagliata nomi non coincidono ho due nomi diversi vabbè certo cioè non è che c'è tanta differenza tra questi nomi però eh cambia solo la lettera vai nessun alias noto vedi controlliamo controlliamo se veramente lui concide però quindi quindi può passare magari è solo un errore il numero del passaporto è quello però magari è solo un errore non mi sembra che la scusa del ho due nomi diversi sia valido in questo caso però vada next please no perché però ho capito che il lume non era giusto però coincideva comunque non doveva passare lo stesso ah è tornato quello di ieri ma che cazzo ma l'ha fatto lui in sto passaporto questo passaporto mica è valido l'ha trovato nelle patatine ma sei scemo ma scusami aspetta un attimo cioè ma stai scherzando questo passaporto è falso come non è vero ma chi è pre-approvato ma io non credo possiamo farlo andare via così non dobbiamo farne lì nient'altro vabbè senti no aspetta cosa devo fare devo chiamare qualcuno o veramente dobbiamo timbrare qua ah pre-approvato è tipo quello no aspetta io non mi fido non può essere pre-approvato no rifiutiamo ma devo timbrare sul passaporto falso è questo che mi sembra strano capisci vabbè non può entrare torno con uno migliore speriamo allora allora abbiamo Bruckner Sebastian data di nascita coincide la scadenza è giusta posso penso spero spero di non aver fatto cazzate perfetto vediamo ho preso due ammonimenti non c'è paga per i richiedenti ubagliati dopo le 18 la tua famiglia ha bisogno di medicina l'affitto è aumentato oh no allora la sua acera può morire va bene posso l'atleta di Republia ricercato per omicidio vince le strade irreperibile probabile la fuga oh dobbiamo stare attenti a vince le strade allora fidanzata forse uccisa in un raptus di gelosia ricordiamo il nome di vince le strade devo far passare cioè devo stare attenta ok l'ispettore è ora autorizzato da arrestare gli individui sospetti interrogare in merito alle incongruenze per consentire l'arresto ok vince le strade ricordiamoci ho comprato le medicine la sua aaaaa chiaro e niente scopo del viaggio mi trasferisco qui dice nata natali bergmovska passaporto numero sbagliato è già qua immigrazione per sempre no aspetta ho sbagliato questo questo devo cliccare vai che succede qua è sicuramente errore documento è valido aspetta non arrestare me io prego tu rifiuta passaporto e me ne vado no perché dovrei arrestarla per un numero sbagliato ma va figurati troppo buona vedete ci torna con i numeri giusti così subito arresto abbraccio salve scopo del viaggio transito attraverso il paese durata solo 14 giorni 14 giorni numero giusto ivan denovic a posto scadenza 10 10 84 può entrare gli arresti danno soldi non so vediamo non vogliamo che gioco prossimo scopo del viaggio transito per quanto un paio di giorni vero ok allora arrestarlo subito ma no 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 aspetta questo è il criminale pazzo loco dove lo leggo dove lo leggo come faccio ad arrestare anzi no aspetta così e così ma non in nel senso che non coincidono deve essere arrestato questo da qua magari è il criminale come cosa dovrei cliccare secondo voi aspetta individui sospetti anzi no non mi fa cliccare non mi fa cliccare ultima pagina del foglio bianco ah ok bravi interroga dannazione ascolta non ho ucciso lei trappola non credere a bugia di repubblica fai passare a me arresto l'hanno arrestato ragazzi perfetto ho fatto il mio lavoro anche oggi prossimo salve signora viaggio vengo per visita quanto otto settimane ok visita giusto ari gianne gianne ari perfetto ok scade ok femmina giusto mi sembra lei numero questo giusto perfetto può andare per dirci prossimo cosa dice vediamo non è mia scelta odio questo schifo di paese sono solo di passaggio durata due giorni meno che posso ok si chiama wicklof petra giusto numero del passaporto coincide scadenza perfetto può andare non ho fatto cazzate spero di no vada bah next ma e dov'è il passaporto where is your passaporto bro non tiene il passaporto ora sono cazzi no aspetta devo fare così no aspetta ecco vai passaporto richiesto ecco ah ok falso allarme vediamo si chiama herbold bradin bradin herbold scadenza 84 credo sia a posto questo numero coincide un anno scadenza 15 80 ok 12 82 signore lei è benvenuto prego vada grazie lei qualcosa viaggia transita quanto tempo un paio di giorni mattias brooks giusto scadenza 82 oh e pesaporto scaduto oh no oh no andiamo deve essere errore di stampa si certo bro certo certo prenderci next pam 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 lei per cosa viaggia quest'oggi è una bella giornata amico mio finalmente siamo liberi da tirani ok poi non mi ha risposto alla domanda durata per sempre ora non ha risposto alla mia domanda vostok piotr numero giusto scadenza 83 giusto può andare prego 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 vada vada è stata bene mia moglie lei è dopo di me oh oh ho paura per la moglie mi sa che lei non passa hai visto mio marito lui è passato sì si sbrighi signora eh lei non ha il coso e niente lo sapevo lo sapevo che lei non sarebbe passata non hanno dato permesso a me io non ho scelto ci sono messe attorno ragazzi però vabbè raga facciamo finta di niente dai siamo in chiusura signora lei può passare prego oggi sono buona mi prendo la multa prego vada noi non dimenticare cosa mi ha dato mi ha dato soldi vabbè nessuna penale a post sono per morire a tutti i miei familiari aspetta adesso devo madonna santa allora io devo bar spessatrice per modalità ispezione abbiamo solo 15 dollari freddo freddo cazzo come facciamo non posso permettermelo vero figlio riscaldamento quindi io in base a quello che insomma chi faccio passare guadagno in base a quello quindi devo essere molto più veloce per guadagnare più soldi vince le strade arrestato gresti sembra certa la colpavolezza del velocista sempre meno posti di lavoro immigrati una minaccia per l'occupazione devo essere più veloce il ministero del lavoro ha implementato un programma speciale per il controllo della mano d'opera immigrata i viciatori in attrata per lavoro dovranno esibire un foglio di lavoro in corso di validità ok ok quelli che sono per lavoro devono far vedere il foglio di lavoro insomma vengo per lavoro durata di soggiorno sei mesi sei mesi 14 ok 82 giusto numero è giusto pacuna abda pacuna abda attivo funzionante a posto questo è sempre lei edilizia durata penso di sì raga vada vada stiamo a uno next prossimo sono tante cose da controllare raga vero eh per lavoro viaggio anche lei metà anno ma che mi sta dando allora lotter hitter sì è lei durata quanto ha detto sei mesi costo attivo sei mesi sì scadenza numero del passaporto è giusto la 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 giusto tutto a posto sì mi sa di sì perché mi hai dato il bigliettino dello strip club aiuta me l'uomo di nome Dari Ludum promesso me mia sorella buon lavoro in astro io non mi fido temo che lui prenda il mio passaporto e costringe a lavorare in bordello è in fila oggi ok non lo facciamo passare ricordiamoci visita ha detto durata 60 giorni ok giusto presto guillot giusto numero giusto visita scadenza 22 novembre ha ha signore è scaduto il suo passaporto interrogazia inter no aspetta ho sbagliato no 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 vai interroga non puoi entrare col documento cosa è possibile appena rinnovato impossibile è scaduto mi dispiace non puoi entrare direci è stato bello via prossimo non so qual è bisogna leggere tanto devi stare attento viaggio per vengo a vivere con mia moglie migrazione per sempre ramezgodelrab rameznel è qua già qua abbiamo un problema che problema abbiamo no 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 nomi non coincidono più di un nome controlliamo impronte vai let's go let's go nessun alias noto in questo caso io non dovrei farlo passare perché non si sa del suo secondo nome giusto cioè le impronte coincidono con quello che abbiamo qui ma il suo secondo nome non va bene cioè noi non possiamo farlo passare con questo nome sbagliato vederci prossimo next 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 ancora lui è tornato quello giusto vero vero sì ma manca eh ma non può passare lo stesso ma questo è proprio babbano questo ti manca il eh da dove viene questo cittadino no gli serve il permesso d'entrata ma ogni giorno poverino si diverte eh no non può entrare eh eh cioè poveri però persone così ce ne sono eh avete un confine severo qui bravi fate buon lavoro cerco cosa di entrata e ritorno meno male almeno non si incazza prossimo per cosa viaggia visita due tre mesi Mladenovic Milan il numero è giusto scadenza posto può andare vada vada buona permanenza salve 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 tu vieni io do bella ragazza solo per questo rifiuto ehm Ludum Dari Ludum Dari scadenza 83 data giusta carta identità ha detto per no aspetta 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 ah ok perfetto può andare è il t che tizio che tizio mi sono già dimentita ah quello del bordello bravi cazzo c'ho anche il coso qui ah ho sbagliato no lei non può entrare aspetta fammelo timbrare un'altra volta e un'altra a rilieci beh beh perché si è bloccato ah già vada vada bravi bravi raga prossimo veloce che stanno per chiudere violazione di procedura richiedente idoneo all'entrata ho capito che era idoneo però per me può anche non passare vengo a vivere con mio marito Josephine Edward 83 scadenza numero giusto cazzo questo è scaduto però il permesso d'entrata ora come facciamo signora potevo venire solo ora beh cazzo tuoi scusa perdici no lo fate passare no si sbrighi signora cosa viaggia di passaggio quanto tempo paolina e gorova un paio di settimane ok 84 82 25 ok 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 a posto vada vada ti immagini faccio passare per sbaglio qualche terrorista 14 giorni visita durata un paio di settimane Martin Vielgus Martin Vielgus visita eh no eh no eh no Martin cosa fa perché si è chiuso cosa orribile giornata interrotta per attacco terroristico tuo zio morirà senza medicina ho zero soldi mi muore lo zio vabbè pace cioè che ballerina è morte in un club di gresti in giovani immigrate nella rete dei trafficanti nuovo attacco al presidio ok cosa abbiamo di nuovo oggi per agevolare ispezioni più approfondite la guardiola è ora dotata di uno scanner di perquisizione si sospetta che l'attentato di ieri fosse opera di estremisti ok perquisire tutti i cittadini della colecia prima di approvare l'entrata per attivare ulteriori opzioni correllare la voce pertinente nel regolamento con le informazioni in violazione correllare le armi e merci di contrabbando scoperte con la voce sul regolamento ok armi e contrabbando sono vietati tutti i cittadini di collegia devono sapere visito di parenti vengo due mesi vero due mesi lea hassen chirova giusto questo giusto scadenza posto a posto può andare e della collè ah si giusto quindi dobbiamo perquisirla aspetta bravi bravi vai sei stata serratata per perquisizione casuale guarda verso scanner che chiappe beh a posto non ha nulla no ma fanno veramente così può andare a posto non ha nulla con sé credo spero vada signora buona giornata next ok katarina radopska giusto 84 scadenza bene questo coincide a posto può andare no può andare vada 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 dobbiamo fatturare dobbiamo fatturare ma peso non conforme no devo stare attenta al peso giusto perché è evidenziato qua cosa adesso si fa esplodere questa no ti prego trasportava chissà che cosa questa signora bene lui ha detto che sta per viaggio cosa che fa due settimane giusto federazione unite herring kleiner scala all'83 questo è giusto valido posto vada prossimo 74 kg però qua 74 kg giusto Tokovski Nathan mh 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 ma può andare vada giusto si se prende un chilo devi rifarsi documento esatto ma perché se sono dio santo continua a sbagliare vabbè prossimo quante multe però per fortuna non nessuna penale intendo lavorare durata di soggiorno vengo qui finchè muoio finchia figlio di lavoro figlio foglio di lavoro ok eeeh ma viene ma viene ma viene giusto agricoltura durata ok eeeh passaporto non è scaduto femmina a quanto pare cosa c'è scritto qua tutto concide lavoro un anno scadenza Ok a posto Si ricordi che le sta per scadere il passaporto Rirci Si diverta Ma addio santo ancora Finchè Risposta dell'orata della vista Non con Cazzo 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 Resta un mese questo Non puoi entrare bro Ti manca il Questo Perché Cos'è Eh ma non lo sa lui Eh ti devo spiegare Boh Avederci Cazzo Mi sa che lo zio oggi muore Ciao belloccio Taranzo verso altro paese Per quanto Un paio di settimane resta Ok giusto Shady Safadi Maschio 39 88 kg Qua non sono specificati Questo è giusto Questo è attivo Con le Ah dobbiamo perquisirlo Perquisizione Vedremo il suo pippo Proprio casuale Questa perquisizione Ma molto casuale Nudo Nudo Ciao Stefano E che cos'è quello Cosa devo cliccare adesso Aspetta Ho capito So Cosa sta trasportando Hai commesso errore Venendo qui per favore Fai passare a me Non saltare a conclusione Amico Parto solo in oco a medicina Ma do 10 credit A te per passare Ma stai zitto Pagano bene Per tanto obbedienza Cane Cosa L'ex Salve Lei che cosa vuole oggi Nome sbagliato Cazzarola Però è E Ho più di un nome Impronte vai 58 kg Però giusto Nessun alias Noto Vediamo se coincidono Sembra di sì Concidono Ok E ora se coincidono La posso far passare In teoria no Vero Mi sa di no Perché E non Non si sa Che lei ha un secondo nome Quindi non può passare No Cristo Non può Arrivederci Mi viene A timbrare Per forza Col verde Beh Il resto Scusi signore Dov'è 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 Tarnieri Solo con permesso Aspetta Eh no Gli serve il coso Il documento Di identità Ma Cosa Gli manca Ah sì Questo Ho sbagliato Dov'è 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 Mai avuta Molto bene Beh Lei non può entrare Anche se è un cittadino No Dio stato Che problemi ho Con rosso 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 Vada Se ne vada Sbagliare Siamo chi Ti prego Abbiamo Di soldi Allora Lo zio è morto Ragazzi Penalità Affitto Siamo in negativo Beh Cazzarola Mi sa che Sta per morire Pure il figlio Non si può Rip Uno è meno Da sfamare Arstotzka Non togliere I debitori Insolventi La tua Famiglia Verrà Rimandata Al paese D'origine Rimarrà In arresto Finché I debiti Non saranno Ripagati Sarà Facile Trovare Un nuovo Ispettore Perché Perché Mi hanno Messo In carcere Perché Non avevo Più Soldi Ma Dai Ma Che Stronzi Veramente Ero in Negativo Sì Vabbè Allora Era la prima run Posso dire che Molto figo come gioco Interessante Poi Più va avanti Più diventa complicato Però Mi è piaciuta Come Come cosa Ciao Più va avanti Più va avanti